L'influsso dell'economia sul clima è quello del clima e della tecnologia sulla crescita economica. Il Nobel 2018 all'economia è stato assegnato agli statunitensi William Nordhaus e Paul Romer, due pionieri dagli anni 70 sull'analisi di alcuni aspetti fondamentali dell'economia attuale, come la crescita sostenibile sul lungo termine e il welfare per la popolazione globale. Docente a Yale, William Nordhaus è stato insegnato del premio per il lavoro svolto sui danni causati dai cambiamenti climatici, integrando questo tema con l'analisi macroeconomica di lungo periodo. Professore a Stanford ed ex vicepresidente della World Bank, Paul Romer è stato invece premiato per gli studi su come gli economisti possano perseguire un tasso di crescita sano. I vincitori del premio ci hanno insegnato che la situazione economica dipende dallo sviluppo tecnologico e dai cambiamenti climatici, due elementi che legano l'economia alle grandi sfide dell'umanità, ha spiegato Gona Hanson, segretario generale dell'Accademia svedese. Spero che questo premio possa aiutarci a capire come gli esseri umani possano raggiungere risultati stupefacenti. Se iniziassimo a ridurre le emissioni di gas Serra, resteremo stupiti nello scoprire che non è così difficile come si pensava, ha fermato Romer in collegamento telefonico con Stoccolma dopo l'annuncio del Nobel.